Grazie a tutti Mi vedete? Allora, il numero che adesso vi farò vedere è molto particolare Si fa con una banconota e con una semplice matita L'idea è quella di fare un bel buco all'interno della sua banconota Giuliano, quindi l'idea è quella di infilare la matita nel centro della tua banconota Il punto esatto dovrebbe essere più o meno da questa parte Allora, guardate con attenzione quello che succede Una, due e tre Non fermi in parte Non fermi in parte Non riuscivo a vedere Siamo in questo modo Quattro Allora, adesso lo proviamo a fare in un modo che sarà leggermente più difficile Se non lo strappi con la tua banconota Si, se proviamo a dare l'accordo possiamo anche strapparla Eh, lo strappi con la tua banconota Così Tiremo la banconota all'interno È la matita, scusate, che è all'interno della banconota Che giù la banconota Che giù la peretta Non è un po' di me Un po' di me È un po' di me Un po' di me Un po' di me Un po' di me Grazie